e bentornati in un nuovo video oggi vi voglio parlare di alcuni prodotti naturali o bio che ho acquistato su un sito online che si chiama bio vita punto it questo sito io lo conoscevo già perché l'avevo conosciuto su instagram e poi parlando con marina del canale allora adesso qua la pronuncia io non so russo per cui razumashka beauty sicuramente la conoscete ci siamo un attimino messaggiate mi ha dato dei consigli su alcuni prodotti che avevo visto che lei stava utilizzando ma che poi me l'ha consigliata anche degli altri allora avevo bisogno di un detergente viso che vedevo nei suoi video che stavo utilizzando per mia figlia perché sapete che mia figlia si dicenne ha avuto dei problemi di acne giovanile e quindi ora voglio utilizzare per lei dei prodotti che non siano aggressivi e che siano poi proprio diciamo piuttosto somma naturali quindi su questo sito ci sono vari brand varie marche coreane e anche europee ma principalmente ci sono marchi coreani e voi sapete che la skin care coreana segue determinate tappe le coreane poi hanno un determinato cura del viso hanno una pelle bella liscia bianca luminosa perfetta quindi mi sono affidata a a questi a questo sito a questi brand coreani principalmente infatti il primo brand di cui vi parlo è si chiama a più io non lo conoscevo minimamente è un brand quindi coreano che anche questo si prende cura della pelle di mantenere il ph a un certo livello quindi equilibrio della pelle che il nostro ph della pelle 5,5 quindi si prende cura di mantenere il ph non alterarlo insomma e ho preso quindi su questo di questo brand un detergente viso per mia figlia eccolo qua si chiama 18 daily creaming foam quindi è una crema una schiuma detergente proprio per le pelli delicate va bene per tutti i tipi di pelle ovviamente ma in particolar modo per le pelli giovani per le pelli sensibili che hanno quindi insomma magari avuto dei problemi ecco e questo sono 130 ml di prodotto e li ho pagato quindi su questo sito c'erano degli sconti a 9 euro 99 cioè praticamente 10 euro e poi di questo di questa marca il sito quindi bio vita mi ha voluto omaggiare di alcuni campioncini sempre in merito al brand che adesso vi mostro mi hanno dato quindi questo deep clear questo detergente in olio per il viso e niente appunto molto delicato devo dire che ho preso degli appunti perché essendo scritto tutto in coreano non lo conosco quindi ho deciso di prendere degli appunti tramite internet quindi questo vabbè un gel in olio detergente per il viso quindi da provare poi mi hanno omaggiato questi questo doppio campioncino quindi qui abbiamo come vedete anche questo titolo ovviamente tutto in coreano io allora abbiamo questo che è il siero illuminante che tende a schiarire e a le macchie le varie disco disco discromie quindi questo è abbinato poi con la crema sempre dello stessa linea idratante che migliora e ripristina poi il colore della pelle e l'incarnato quindi in teoria andrebbero usati in combine in combo diciamo e niente io non ho molte discromie del viso quindi qualche macchietta sì ce l'ho anch'io del sole quindi questo qua è giusto un inizio per vedere come 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 è questo brand insomma so che molto buone il siero di codali quello contro le macchie però sono curiosa di provare questi prodotti coreani e poi sempre di questo brand quindi bio vita mi ha voluto regalare perché qua c'è scritto proprio regalo questa maschera che è una maschera a intessuto alla pesca niente non ho trovato molto di questa maschera informazioni vedete qui c'è scritto adesso metto gli occhiali ma oltre a schietta è scritto in piccolo anche buio allora c'è scritto in modalità di uso posizionare va bene la maschera sul viso pulito e tonificato per 15 20 minuti far assorbire e poi vabbè rimuovere un classico però sinceramente non sono riuscita a capire il sarà sicuramente la pesca qualcosa di idratante di nutriente non lo so ma come vi farò sapere adesso a questo punto vi lascio il la parola da assegnare per quell'iniziativa che ho un punto proposto in modo da da poter omaggiarvi e ringraziarvi della vostra presenza quindi la parola da assegnarvi per quanto riguarda questo video è mare sapete che io amo il mare che vivrei sempre al mare quindi segnati in questo video mare poi l'altro brand di cui acquistato io un prodotto si chiama benton e anche questo è un prodotto scusate un brand coreano cercavo come chi mi segue lo sa un contorno occhi perché ho terminato quello che ho usato tutta l'estate che poi vi farò vedere nei terminati nel mese e essendo rimasta senza senza contorno occhi mi è stato consigliato questo della benton adesso questo qua non so se riuscite a vederlo eccolo qui giusto lo messo dalla posizione giusta credo che anche questo è scritto tutto in coreano no ecco già avevo girato sotto sopra è questo qua il il prodotto allora questo è un contorno occhi con fermenti lattici allora adesso ve lo faccio vedere il pack che tanto molto carino tra l'altro il pack è molto anche elegante secondo me carinissimo sono 30 ml di prodotto se non vado errata allora questo è appunto come dicevo è un contorno occhi con fermenti lattici ha un'azione levigante illuminante e nutriente cioè proprio tutto e stimola anche il microcircolo perché combatte anche le occhiaie e eventualmente i gonfiori quindi stimola proprio il microcircolo del qua degli occhi e marina appunto mi diceva che è il suo contorno occhi della vita anche questo era in offerta non ricordo questo ma non l'ho pagato poco anche se era in offerta perché comunque è costato sui 20 euro tutti però sono curiosa di provarlo non credo di finirlo quindi ci vorrà un po mi durerà un po ecco insomma quindi spero di aver fatto un acquisto marina sostiene di sì quindi vi farò sapere sempre di questo brand la il sito mi ha mandato dei campioncini eccole qua e sono allora un gel nativo all'aloe eccolo qua quindi un gel all'aloe sapete che è un prodotto che comunque multitasking può togliere anche i rossori allenisce quindi eventualmente delle abrasioni cosa importante che non ci siano appunto degli abrasioni però sapete che l'aloe è multitasking questo è un gel che tra l'altro anche rinfrescante poi mi ha dato questo qua che è un peeling gel per il viso qui abbiamo sempre scritto tutto in coreano io qualcosina ho captato allora questo è un peeling con acido ph è un acido però delicato c'è scritto che si può fare anche per le pelli sensibili quindi dopo aver fatto la detersione si passa a fare questo peeling sul viso non ovviamente intorno agli occhi intorno alle labbra però non c'era scritto che è molto molto leggero e quindi può essere effettuato su tutti i tipi di pelle questo qua sono curiosa di provarlo e poi mi è stato dato questo olio eccolo qua alla carota questo è un olio anche questo che va bene per qualsiasi cosa nel senso viso corpo caperli qualche goccia miscelata magari nella crema viso nella crema mani quello per il corpo oppure sui capelli per cercare di ammorbidirli quindi questo è un olio alla carota che questo qua che va bene per qualsiasi cosa questo è quanto mi riportano i siti o dove trovate informazioni sono curiosa di provarli questi prodotti in particolar modo questo che vi farò poi sapere niente questo era quanto io vi saluto vi lascio eventualmente se volete le informazioni nell'info box guardatele sempre se avete bisogno di informazioni ditelo scrivetelo che vi lascio tutto io vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video e buona giornata a tutti